Buongiorno a voi. Oggi con questo video vorrei rispondere a quello che è un po' quello che vedo molto spesso sul web. Chi è il formatore e cosa significa fare formazione? A questa domanda, se navighiamo in internet, andiamo e scopriamo, a mio avviso molta improvvisazione, cioè dei soggetti che diventano formatori, che ci passano il messaggio di cambiare il mondo, di fare business, ma in realtà esperienza da formatori nada. Non hanno mai fatto formazione, si improvvisano, fanno corsi di qualunque tipo, social marketing, network marketing, qualunque cosa, ma di formazione non c'è nulla. Un formatore non si può improvvisare. La formazione è qualcosa che si acquisisce nel tempo attraverso delle tecniche di costruzione dei contenuti e si cresce nel tempo. Formazione non vuol dire consulenza. Sono due cose ben distinte. La formazione può tendere alla praticità, ma deve passare attraverso un sistema sistemico per poter raggiungere quell'obiettivo. Ecco perché io diffido tantissimo da quelli che improvvisano la formazione, che magari hanno avuto, tra virgolette, un successo anche economico, ma quella non è formazione. Io vedere persone che si improvvisano in corsi di formazione, magari facendosi riprendere vicino a una Ferrari, vicino a una piscina bella, e questi sono dei formatori. La formazione è qualcos'altro. Io entro nel mondo della formazione del 1998 con il mio socio, un direttore dell'ente formativo, un ente formativo ovviamente con un insegnante che arrivava ovviamente dal mondo della scuola pubblica, con logiche e con un comitato scientifico che aveva l'obbligo e l'impegno di creare progetti formativi con logiche didattiche. Questo significa fare formazione. Se oggi vogliamo avere una scuola di formazione, di avere delle persone non solo all'interno degli imprenditori, pragmatici, chiari, ma abbiamo bisogno di qualcuno che abbia una conoscenza didattica, cioè uno che arriva dal mondo della scuola. E questo è il connubio che io ho sempre amato, praticità con didattica. Questi sono due mondi che devono essere fusi insieme. Questi considero dei formatori. Come ho detto, io avevo 23 anni quando sono entrato nell'ente formativo, di cui sono sto presidente fino al 2008. Dieci anni di grande esperienza nell'ente formativo, con centinaia di progetti, di progetti e utenti, su progetti articolati in molte ore. Non questi corsi che magari durano due giorni, ma di formazione hanno gran poco, perché in realtà la formazione è qualcos'altro. Costruisco un soggetto nella crescita nel tempo. Quello è formare. Questo è il mio obiettivo. Un vero formatore ha come requisito principale la cosiddetto amore o etica per la formazione. Cosa vuol dire? Il suo obiettivo è far crescere in un percorso il proprio discente, ma quello di dare tutto quello che sa. Questo è il proprio sapere. Oggi dicono il proprio know-how. Questo è il formatore. Il formatore è centrato sul discente, non è centrato sul business della propria impresa, anche ovviamente, ma in una logica di ottimo equilibrio tra formazione e business. Io amo i formatori e lo vedo nel momento in cui interagisco con loro, se sono formatori o no, o se sono improvvisati. Persone che negli ultimi due anni hanno capito il business della formazione e hanno inserito il loro know-how. Un formatore ha bisogno di tempo. Un formatore non si improvvisa in due anni. Il formatore è quello che arriva da una scuola. Ripeto, dieci anni come presidente di un ente formativo, ho lavorato a fianco con direttori, con docenti di tutti i tipi, insegnanti universitari, e ho imparato cosa significa il concetto di strutturazione della formazione. Oggi posso anch'io poter utilizzare con le tecniche, con le strategie formative, ok? Però ho imparato sul campo con docenti universitari, tanto magari screditati da alcuni formatori, ma ricordo che il mondo universitario e il mondo della scuola pubblica sono l'ABC della formazione. Poi si cresce se arriva al mondo imprenditoriale, ma senza l'università, senza la scuola pubblica, senza quel modello, senza quel paradigma, quel sistema, non si fa formazione. Si sta vendendo un prodotto che finirà il giorno dopo. Questo, a mio avviso, è fare formazione. Questo è il mio video che ho dedicato in una logica di che cos'è la formazione. La formazione non è solo business, è costruire un percorso di crescita del proprio discente. Solo con questa logica, con un know-how, con delle basi didattiche, allora siamo in grado di fare formazioni, se no stiamo vendendo un prodotto, un prodotto che può avere un successo ma nel breve termine. La formazione guarda sempre a lungo periodo, ok? Life learning, cioè la vita del nostro discente nel tempo, ok? Questo è quello che un formatore ha nei confronti del proprio utente. Allora, una logica, io ripeto, io chiamo etica del formatore, no? Il formatore ha l'obiettivo di far crescere il proprio utente nel costruire un progetto a medio e lungo termine. Se no, sono solo pillole formative ma è in un altro contesto. Questo è quello che io voglio nella mia realtà che voglio offrire ai miei clienti. Al prossimo video e grazie a voi e buona giornata!